Sì Presidente, grazie. Semplicemente per portare in sede parlamentare un problema. Io ho presentato un'interrogazione per chiedere una domanda specifica al Governo. Perché non si può più manifestare davanti Piazza Montecitorio? Perché io ricordo che questa piazza è stata chiusa per motivi sanitari, cioè era stata l'emergenza Covid e non si poteva più giustamente manifestare, ma non solo in questa piazza. Si è liberato tutto quanto sotto Piazza Montecitorio, non si può più manifestare, non danno più permessi. Questo è un problema per noi molto serio, perché poter manifestare un dissenso sotto i palazzi del potere vuol dire che hai una democrazia sana. Perché una donna che non può più andare in pensione con opzione donna grazie a questo Governo non può venire a dirlo sotto il palazzo a cui gli è stato tolto questo diritto? Perché una persona che chiede il salario minimo e lo vuole chiedere ai diretti interessati non può farlo sotto Palazzo Montecitorio? Questa è una cosa su cui noi ci stiamo interrogando ed è molto importante ricevere questa risposta, perché non bisogna avere paura di chi vuole arrivare in piazza e avere un dibattito sano. Lo so che si sta cercando di fare di tutto per far passare dei studenti a volto scoperto come dei facironosi che vogliono protestare e che vanno manganellati. Lo so che si sta facendo di tutto per far passare ogni tipo di protesta un elemento di pericolo verso la democrazia, ma non è così. I ragazzi, come tante famiglie, vengono in piazza per i loro diritti ed è così da duemila anni e dovrà essere così per i prossimi duemila. Quindi chiediamo una risposta su questa interrogazione perché è importante per la nostra democrazia e questa risposta non la sta attendendo il Movimento 5 Stelle, ma lo stanno attendendo tutte quelle persone che da sempre sono venute a manifestare sotto Montecitorio e che per grazia del Governo, se possibile, con moltissima cortesia, vorrebbero tornare a farlo. Grazie. 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 Grazie.